Benvenuti nel mondo di orologi Bohm e Mercier. Bohm e Mercier è un brand di orologi di lusso svizzero fondato nel 1830 dai fratelli Louis Victor e Celestin Bohm. Nel corso degli anni, l'azienda ha acquisito una solida reputazione internazionale grazie alla creazione di esemplari d'eccezione che vantano al proprio interno innovazioni all'avanguardia. Fedele al proprio motto, accettare solo la perfezione, produrre soltanto orologi della più alta qualità, Bohm e Mercier è stata in grado di distinguersi dalle altre marche grazie alla rara precisione dei suoi strumenti di misurazione. Negli anni 20, Bohm e Mercier decise di avviare una partnership con Paul Mercier, dando vita a un brand ancora più dinamico nel settore degli orologi da polso. Grazie ai modelli molto equilibrati e dalla forma particolare che propone, l'azienda ha lasciato un'impronta duratura nell'universo del design orologero, imponendo il proprio stile durante i ruggenti anni 20 e per tutto il periodo art déco. Negli anni 40, Bohm e Mercier ha lanciato uno dei modelli che ha avuto più successo, il Marquis. Sotto l'impulso creativo, la marca ha poi realizzato diversi orologi da donna dal design originale e squisitamente moderno, dimostrando che i modelli femminili non sono soltanto semplici versioni in miniatura di quelli maschili. Sempre alla ricerca dell'equilibrio, simboleggiato dalla lettera greca Phi, l'attuale logo Bohm e Mercier, la Maison ha lanciato diversi cronografi dotati di funzioni quali fasi lunari o tripla finestrella della data. Negli anni 70, invece, Bohm e Mercier ha presentato la linea Riviera, caratterizzata dal design sportivo e originale. Oggi, Bohm e Mercier continua a creare orologi di alta qualità, che combinano l'arte orologera tradizionale con le tecnologie più avanzate. La marca propone una vasta gamma di modelli, dalla linea sportiva a quella elegante, con opzioni sia per uomo che per donna. Ogni pezzo è realizzato con materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, l'oro rosa e il spontaneo, e dotato di un movimento meccanico di precisione. Bohm e Mercier è un marchio che ha fatto la storia dell'orologeria svizzera, grazie alla sua continua ricerca di perfezione e innovazione. I suoi orologi sono apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità, il loro design distintivo e la loro precisione. Se stai cercando un orologio di alta qualità che combina l'arte orologera tradizionale con le tecnologie più avanzate, Bohm & Mercier è il marchio che fa per te. Grazie a tutti.